ciao a tutti allora quinta giornata di campionato e andiamo al 2 di piccari allora partiamo dalla carta più bella il 2 di cuori il 2 di cuori questa volta lo diamo a due squadre neopromosse sì perché in genere premiamo sempre le big questa volta invece premiamo due squadre che stanno facendo molto bene in questa prima parte del campionato incontreranno sicuramente delle difficoltà ma in questo momento non si può non sottolineare il lavoro svolto dalle due squadre e anche dai due direttori sportivi di chi sto parlando lecce e frosinone quindi corvino da una parte angelozzi dall'altra il lecce è partito fortissimo corvino ha scelto da versa che ha dato concretezza e gioco a questa squadra ha individuato dei giocatori importanti cristovic sta facendo molto bene una piacevole scoperta quindi un'altra operazione di corvino il lecce è partito forte a un punto in più della juventus e terzo in classifica mentre il frosinone dall'altra parte ha cambiato anche angelozzi l'allenatore ha preso di francesco che ha dato subito una qualità di calcio ma attenzione una squadra che sa anche soffrire come ha dimostrato in queste prime partite nell'ultima gara ha ottenuto un punto sta a meno due dalla juventus ha dei giocatori di qualità sulle sta facendo molto bene e potrebbe diciamo in questa squadra veramente lanciarsi definitivamente insomma premiamo queste due squadre che con budget ridotti hanno comunque il sito delle squadre che possono ambire alla salvezza alla faccia di chi dice che contano solo i soldi nel calcio alla faccia di chi ha sostenuto la superlega e nella superlega progetti così non avrebbero nessun tipo di spazio andiamo al 2 di pic lo diamo a due allenatori lo diamo ad allegri e lo diamo a sarri allegri ha perso malissimo la sua juventus contro il sassuolo è partita bene mostrando ancora un po di gioco propositivo di aggressione poi al primo gol subito per errore del portiere si è sciolta la squadra perdendo quella caratteristica che faceva di allegri diciamo una unicità ossia la forza mentale di questa squadra diciamo così non c'è più neanche il cortomuso cioè si è perso il cortomuso quella grande forza quella solidità della squadra dal punto di vista caratteriale dall'altra parte sarri ha perso la sua prerogativa principale il gioco il sarrismo non si vede quest'anno e forse non si è visto o si è visto parzialmente anche l'anno scorso cinque partite della lazio quattro punti non accadeva dal 2001 2002 e soprattutto si è visto il gioco soltanto in uno spezzone di partita contro il napoli veramente male insomma mi viene da dire c'era una volta il cortomuso e il sarrismo male anche osimene non mi è piaciuto osimene quando è uscito dal campo con quell'atteggiamento nei confronti del tecnico lo mette in grande difficoltà forse doveva pensare di più al rigore sbagliato che fare quel tipo di sceneggiata fastidioso chiudiamo con il gioli lo dedichiamo a due attaccanti forti fisicamente che hanno firmato la gara ossia torino roma e quindi lukaku che ha fatto un grandissimo lavoro e zapata che ha lavorato tantissimo ci sentiamo al prossimo due di piccari buon procedimento